Io sono Dimitrio Zirkov, curatore russo, faccio questo progetto intanto che curatore, diciamo direttore artistico per Vittorio Veneto. Questo sarà il primo centinale dell'arte contemporanea qui a Vittorio Veneto per commemorare la vittoria importante che è la prima scoperta della pace qui a Vittorio, un momento molto importante nella storia europea, nella storia mondiale e vogliamo noi di nuovo ripensare alla pace dopo cent'anni, celebrare questa scoperta importante per tutte le nazioni che partecipavano nella guerra. L'importanza di questo progetto è la cosa artistica, la cosa politica, la cosa sociale. È il momento storico molto importante per la storia d'Europa di oggi, con tutti i problemi, con tutte le cose che succedono, però anche il momento quando l'Europa ci pensa come un'unione, come un luogo dove la gente abita insieme, di varie nazioni. Grazie. 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 Grazie.